Siamo in tanti momenti. Questo controllo da sotto. Vedi? 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 Vedi che voglio liberarmi e mi cincano. Vedi? Qua deve essere inserito molto più profondo. Il gomito deve essere vicino alla mente. Sì, è il tuo pugno, il pugno destro, deve essere vicino alla tua mente. Adesso io sono stretto bene. Le gambe devono stringi. E poi devi tirarti con talone. Stringi tutto. Stringi bene. Stringi. Senti? Controlla qui. Stringi bene qui. Tutto insieme. Tutta la struttura. Senti? Adesso io provo a liberarmi. Vedi? Vedi i gambe? Non devi lasciare i gambe. Non devi lasciare i gambe. Vedi? 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 Basta tra le gambe. Stringi bene. Vedi? E adesso fai. Stop. Occhi vanno a sinistra e su. Vai. Subito. Non devi fare tanto. Poi ancora una volta. Vieni. Vieni bene. Adesso. Vai con occhi. Con il tuo destro. E lavora anche con le spalle. Con la spalla destra e dietro. Oh. Qua la legatura deve essere molto più stretta. Oh. Senti. Guarda. Ho braccia con braccia. Ho braccia su. Così. 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 Qua deve essere stretto molto. Qua. Senti. Qua stretto. Qua attaccatissimo. Per non permettere. Adesso io ti giro qui. Senta. Ah. Cazzo. Lo stesso continuo a fare. Ah. Si. Vedi? Si. Imposibile. Basta che non mi permette scappare da qui. Vedi? Maggi se scapi. Se scapo, si. Basta che mi stringi. Basta che mi stringi. Basta che stringi comunque. Si. Capito? Si. Unica cosa importante che le hai risotto. Non montarlo. Si. Non devo fare onda. Vabbè. Allontanare la mia gamba e le mie ocche spazio. Per salire. Si. Per salire. Per tirare. Per avere spazio. Per spingerci. No. Troppo. No. Troppo lontano. Moltissimo lontano. In corretto sei andato. In corretto. In corretto. Tu sei proprio andato. La vedi? In questo principio già sento la te. Quale? In questo principio di andare indietro. Perché tu pensi che sì. Invece questo non è un punto finale neanche, questa è una ilusione, tua ilusione. So, devi girarmi completamente, no, 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 sentitevi bene. Sì, questo deve essere molto più montato da qua, qua di loro esame girare, molto più di qua. Vedi? Adesso vedi, sono quasi nispagate. Sì, se posso provare a stare qui, guardino, guardino, guardino. Vedi? Invece già, mostro se basta un po' dar su la gamba. Sì, basta che prendi, vedi, è pronto un po' dar, ma io so, ma, vedi, tuo cervello non ti ascolta. Oh, vedi? Vedi, è qui. Questo vado, perché io posso prendere i tuoi poloni. Non vedi? Non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, è sto, vediamo con me. Basta che, oh, oh, vedi, guarda, io voglio prendere i tuoi poloni. Basta, sto da qua magari. Un cazzo. Vedi? Guarda. Da questo momento, bax, dici, io sono già trovato. Vedi? Ah, vedi che le pregoi, ma. No, se spingi qua un po', vedi, basta. Io voglio uscire e per me è una difficoltà. Basta. Vedi? Voglio provare a prendere il tuo poloni. Vedi? Ah, faccio che ti provo questo, ma poi, dali, basta. Adesso metti il mio salone qui, salone più vicino, ma questo può anche aiutarmi, questa cosa, questa cosa io prendo il tallone, perché tu ti verrai adesso. Oh, io posso controllare, posso giustirlo? Ah, già preso, posso provare, posso provare a fare cose, perché io devo tanto facilità anche di te, potremmo fare tutto pulito.